Aspetta lei a dire che non piace a nessuno o tiri fuori le p***e, ma per alzarti ad andare a casa non ce l'ha le p***e. Io ho due p***e, due p***e così, per vedere la tv stagliana e parlare con te. E stai incollato a quella sedia, non ti scolli, non ti vogliono, devi andare a casa Facundo. Quanto dobbiamo aspettare affinché tu alzi la p***e la sedia e te ne vai? Quello lo vedremo un po' più avanti. Facundo poi vedrai quelle p***e. No, quello lo vediamo adesso. Cioè non è che lo vediamo. Ma ti dico, io sono stata, io ti dico l'ultima cosa, poi per me davvero puoi andare. Io sono stata già troppo scema a darti la possibilità, dopo quella frase che hai detto a lei, sono stata veramente una scema a pensare che ci potesse essere qualcosa di meglio dietro le tue frasi. Ho paura che abbiamo capito, se vuoi lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi andare, detto il romano. Grazie. 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 Grazie.